Buoncionno! Nel video di oggi andremo a provare il nuovo brawler Angelo e la nuova brawler Melody Proprio quelli lì che abbiamo visto nel Brawl Talk di qualche giorno fa Io sono curioso, vi faccio vedere proprio tutto in anteprima perché vi ricordo che sono sull'account sviluppatore che si chiama Kazuu E quindi abbiamo tutto a livello massimo, tutto illimitato, gemme illimitate, qualsiasi cosa illimitato Praticamente l'account che Supercell mette a disposizione ai creator Quindi andiamo a sbloccare Angelo, lo voglio fare direttamente con voi Questa qui è la sua animazione di sblocco Io non mi sono spoilerato niente raga, ho letto soltanto la descrizione che ci forniscono i ragazzi del team di Supercell Del team degli sviluppatori di Supercell che ci danno una breve descrizione del brawler Quindi noi innanzitutto ce lo andiamo a maxare, perfetto, e lo andiamo a provare nel campo di prova Allora da quello che mi ricordo, sì, mi ricordo bene, è una zanzara e la sua peculiarità è che può camminare anche sull'acqua Il problema è che qui nel campo di prova raga non ci sono le pozze d'acqua ma vi garantisco che passa sulle pozze d'acqua perché è una zanzara, ha le ali Per quanto riguarda invece l'attacco è un tiratore quindi il suo raggio è bello lungo ma c'ha una peculiarità Cioè se io attacco direttamente guardate quanto poco danno fa raga Cioè se uso il colpo automatico 484, 572, c'è proprio poca roba Aspettate se mi avvicino però Ok sempre 572, non so perché prima abbia fatto 484 Però praticamente se prendo la mira, più tempo sto per prendere la mira Sbada bam, 4400 di danno Cioè da 500 di danni siamo passati a 4400 Perché la sua peculiarità è questa Più tempo stai, più tempo passa mentre tu prendi la mira e più il suo danno sarà alto Guardate che si va a ricaricare anche questa specie di onda energetica gialla Eccola, eccola, guardate si ricarica E a questo punto ci fa capire che al massimo sbam 4400 di danni Si passa avanti con la super Angelo crea una pozza, sì, una pozza tossica Che oltre a danneggiare i nemici Dopo ci assicuriamo, ci accertiamo che va a danneggiare i nemici Rende le sue frecce più potenti e velenosi Sono stato un pollo perché non ho sfruttato per niente la sua super Quindi ce la ricarichiamo di nuovo Perfetto Andiamo dal signor robottone, mi serve un attimino per il mio esperimento Perfetto, guardate come danneggia Adesso mi ricarico completamente il colpo Sbam Perché ha fatto sempre 4400 di danni? Non ho capito perché Ah, ora ho capito, ora ho capito Causa agli avversari non più danni Ma danni nel tempo Vediamo Colpito, 4400 più 1100 più 1100 più 1100 No vabbè raga Così con la super diventa veramente OP Adesso abbiamo capito Per quanto riguarda il gadget Ali vampiriche Angelo vola in alto e sottrae 660 punti salute nemici che si trovano nelle vicinanze quando spicca il volo Mentre per quanto riguarda l'altro gadget Perforatore L'attacco successivo di mira stabile tra figge nemici e gli ostacoli Io vi giuro che dalla descrizione di questo gadget non ci ho capito niente Quindi lo andiamo a provare Lo andiamo a provare Che vuol dire che l'attacco successivo di mira stabile tra figge nemici e gli ostacoli No sono io stupido Adesso ho capito Vediamo Dovrebbe passare attraverso E si effettivamente sono io che non comprendo ancora 22 anni di età l'italiano Riattiviamo di nuovo il gadget Sbam Ok Però la cosa che non riesco a capire La cosa che mi triggera è Che vuol dire di mira stabile Cioè se faccio così e faccio così No Anche con l'attacco cliccando soltanto passa attraverso Vabbè il secondo gadget il colpo passa attraverso gli avversari Questo vi interessa sapere Ah ora ho capito Mira stabile è il nome del suo attacco Perfetto Prima abilità stellare Omeopatia Angelo ripristina la propria salute Rimanendo nell'aria tossica creata con la sua super Ma tra l'altro mi sono appena accorto Che guardate quest'onda energetica Che va a creare un cuoricino raga È tipo una zanzara cupido Quindi adesso facendo così Adesso che lui mi sta attaccando Io automaticamente mi vado a ricaricare anche la vita Questa qui è la prima abilità stellare Seconda abilità stellare Idroflusso Quando Angelo è sull'acqua La velocità di movimento aumenta del 25% Speriamo che ho acchiappato la mappa In cui c'è almeno un pezzettino d'acqua Sì signori c'è Ve l'ho detto proprio all'inizio del video Che la sua peculiarità è camminare sull'acqua E adesso grazie a questa abilità stellare Cammina anche il 25% più veloce Guardate questa qui è la sua velocità di base Passo sull'acqua Iniziamo a muovere le ali più velocemente Bene Comunque tutto sommato raga Questo brawler mi gusta Voto da 1 a 10 Se lo merita secondo me un bel 8 e mezzo Che tende al 9 Brawler epico non ve l'ho detto Salute 6000 Attacco 4400 di danno Vabbè l'avevamo capito Ma andiamo avanti con l'emergente cantante K-pop Appena approdata sulla scena No in realtà ancora devi approdare Perché ancora devi uscire ufficialmente Melody Brawler mitico La andiamo a sbloccare Eccola qui signori Questa qui è la sua animazione Scompare Gira a destra e a sinistra E' sempre accompagnata dal suo microfono E da queste note musicali Che le girano attorno Che sono proprio una sua peculiarità Che cosa bella stare sull'account sviluppatore E poter premere a caso i tasti Tanto si si migliora tutto A proposito del microfono Visto che è una cantante K-pop Il suo attacco di base Scaglia proprio il microfono Contro gli avversari Ma c'è una peculiarità Guardate Se colpisci l'avversario Quindi se il colpo va a segno Inizia a ruoteare attorno a sé Una nota musicale Stessa cosa Se tiro un altro colpo Che va a segno Ne abbiamo due Fino a un massimo Di tre note musicali Guardate Eccole qui Queste note musicali Se io mi avvicino agli avversari Causano danni raga Ovviamente con il tempo scompaiono Durano pochi secondi Non tantissimo Però in un attimo Tu te le ricarichi di nuovo Basta che con tre colpi Vai a segno Ti avvicini agli avversari E continui a danneggiare Questa qui è una sua grande peculiarità Perché Se vadiamo bene raga Il suo attacco di base È veramente scarso 920 di danno A livello massimo Che è veramente poca roba Però Bebebebebebebebebebebebebebe Guardate qui Guardate qui che vi combina 1840 di danno Con le note musicali Che sono praticamente Dania gratis Anche perché Con i suoi 8200 di vita Ci possiamo avvicinare Agli avversari Per danneggiarli così Quindi può essere comunque Un brawler corpo a corpo, non tantissimo corpo a corpo ma ti puoi avvicinare, poi ti allontani di nuovo facilitati dalla super perché, sbam, guardate qui si scatta, ti avvicina agli avversari cioè, vi faccio vedere adesso colpisco questo qui, vado di qua mi avvicino, lo colpisco ecco, non proprio in questo modo, lo colpisco con le note musicali, quindi secondo me non conviene pushare direttamente verso l'avversario ma vi faccio vedere in che modo, cioè guardate, Kazusan che vi da consigli su come attaccare, io chiuderei il video in questo momento, però ecco guardate, guardate, un minimo intelligente lo sono, quindi vi avvicinate ma non troppo all'avversario riuscite a danneggiarlo, questa qui è la sua super, ma c'è una peculiarità una sola volta che ti sei ricaricato la super la puoi usare fino a tre volte signori, tre in uno, come le offerte al supermercato quando sei indeciso se comprare quel prodotto, vabbè non credo sia un problema che riguarda tanti di voi, come non riguarda manco me però guardate, tre colpi, ricaricata la super, sbam, adesso ne abbiamo due, sbam adesso ne abbiamo uno, sbam ovviamente non è cumulabile un massimo di tre, e si passa al gadget intonatore che fa aumentare la velocità delle note di melody, vi faccio vedere, attivo il gadget la velocità aumenta e anche lo spazio diventa ancora più ampio quindi questo ci permette di non pushare proprio sotto sotto gli avversari vantaggioso questo gadget signori vantaggioso da puntare altro gadget barriera del suono anche questo qui fa riferimento alle note ve lo faccio scoprire subito attivo il gadget e praticamente ogni nota di melody va a creare uno scudo attorno a sé voglio capire in che modo no, fermi, fermi allora il gadget senza le note non me lo fa attivare adesso voglio attivare una nota attivo il gadget che mi dà più vita ah ok crea uno scudo pari al 15% della sua salute massima che dura per tot tempo quindi sicuramente conviene attivare il gadget quando abbiamo tutte le note infatti adesso abbiamo 3000 passa di vita top, 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 top ci sta ma devo essere onesto raga mi piace più il primo gadget si va avanti di abilità stellari la prima ritmo serrato la velocità di movimento di melody aumenta dell'8% per ogni nota che orbita attorno a sé vabbè raga è inutile che cioè semplicemente la vedi sul campo e va più veloce non perdiamo neanche tempo seconda abilità stellare versione estesa le note messe da melody durano il 25% in più prima di svanire anche qui non c'è niente da dire semplicemente le note che girano attorno a lei durano il 25% in più guarda caso mi gusta pure questo brawler sono onesto andando avanti raga ci sono tipo un miliardo di skin e le abbiamo viste nel brawl talk una su cui mi voglio soffermare che tra l'altro non mi ci sono soffermato col brawl talk è quella lì di spike andiamola a vedere dove sta eccola qua spike no vabbè spike putipo si chiama in inglese l'hanno chiamato spike cacatus yeah che ci sta originale la andiamo a sbloccare vi faccio vedere anche la rivoluzione di sblocco è pucciosa cioè non avrei mai detto ad una cacca che è pucciosa però ve lo giuro è pucciosa e tra l'altro è una skin pesce d'aprile comunque se a voi fa piacere tra l'altro ci da pure le icone della cacca bellissimo quando ricaricate le gemme prima di ricaricarle in fondo al negozio codice kazu eccolo qua k-a-z-a-u ovviamente qui non me lo fa mettere perché siamo sull'account sviluppatore ma vi garantisco che funziona provare per credere sempre se vi fa piacere ciao ciao